La crisi attuale da vera economica o la si può vedere come il punto di rottura dell'asse tra le attuali democrazie rappresentative e l'economicismo, quali nuovi processi possono partire da questo punto di rottura e questo è il titolo di Valerio Colombo. Valerio Colombo, consulente informatico ed esperto di editoria, attualmente si occupa di sistemi di gestione della conoscenza aziendale. Ha coordinato il gruppo di lavoro sui nuovi modelli economici del Forum Umanista Europeo. È stato candidato a sindaco di Milano nel 2006 e sta promuovendo il gruppo di studio sui nuovi modelli politico-sociali del Partito Umanista in Italia. Ho posto un attimo il timer. È autosufficiente. Vediamo, vediamo. Così poi posso barare. Tanto vi vedo provati quindi cercherò di essere, magari proverò a stare anche a meno dei 20 minuti. Avrete capito che candidarsi a sindaco di Milano col Partito Umanista richiede un certo coraggio. E infatti questa presentazione, diciamo, questo intervento sarà abbastanza coraggioso. Cerchere il titolo appunto, alla fine poi sono riuscito a dare un titolo, è crisi economica o di altro tipo? Ah, non ce l'avevi detto. Sono uscito oggi, come Luigi, tra il mattino io ci sono riuscito mezz'ora a trovare questo titolo. Quindi, insomma, cercheremo di fare alcune osservazioni sulle dinamiche storiche che hanno portato alla situazione attuale dal punto di vista economico e politico. Aggiungo un altro elemento. D'altronde sono del Partito Umanista. A proposito, ringrazio il Centro Mondiale dei Studi Umanisti per averci invitato, per avermi invitato anche come rappresentante del Partito Umanista, a parlare anche dal punto di vista politico, diciamo. D'altronde stiamo parlando di fondare una nuova civiltà e quindi vedremo se magari c'è bisogno anche di un nuovo tipo di politica. Come diceva lui, non un nuovo politico, un politico, ma un tipo di politica. Vedremo di che si tratta. Premetto che sono considerazioni informali. Non pretendono di avere sistematicità. Cercherò di fare proprio una carrellata come se fosse uno spot, perché molti di questi argomenti richiederebbero molto tempo per essere approfonditi e soprattutto per essere fondamentati, perché qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Ci sono proprio dei passaggi che so già che sono un po' arditi. Sono a disposizione poi per il tempo che avremo o anche dopo per approfondirli quanto vi pare, perché mi diverto tantissimo. Sono proprio... è la mia ossessione. Quindi cercheremo appunto di osservare quello che poi ha prodotto questa crisi come processo, cercando di osservarlo da fuori, più da fuori possibile. Intanto parliamo di crisi. La crisi è un momento che separa. Crisi vuol dire momento che separa. Transizione tra un prima e un dopo. Quindi quando si parla di crisi ci dovrebbe essere un prima e un dopo, che potrebbero essere uguali o diversi. Oggi, come dicevano anche a molti altri, quando si parla di una crisi, che deve semplicemente ristabilire un processo che si dà per scontato. Una sorta di crescita economica, qualcosa di questo tipo. Poi parliamo di economica. Oggi si parla di crisi come se fosse economica. E vediamo un attimo, questa è una definizione di economia data da un libro che si chiama Introduzione all'economia del nuovo umanesimo, in cui un nostro amico economista, molti anni fa, ha dato questa definizione che mi è sempre sembrata molto precisa. L'economia può essere definita come la scienza che si occupa della maniera in cui si amministrano determinate limitate risorse al fine di arrivare a produrre beni e servizi e di distribuirli tra i membri di una determinata società, affinché li consumino e godano. Quindi è scienza tecnologica in qualche modo, cioè è una scienza della distribuzione, dell'allocazione. Alcuni beni sono limitati, per esempio l'ambiente, e devo cercare di ottimizzare l'uso di questo bene per soddisfare le necessità della comunità di cui mi occupo. Questo è lo scopo dell'economista, almeno da definizione. Quindi una crisi economica dovrebbe essere un momento in cui l'economia non riesce a soddisfare i bisogni primari a causa di un'acuirsi della scarsità di alcune risorse. E' così che spesso la crisi economica viene fatta apparire. Ora è vero che c'è un iper-sfruttamento del pianeta, però è anche vero che ci sono molti studi che dimostrano che in realtà, volendo, ci potrebbe essere un'alimentazione sostenibile, cioè in realtà che in questo momento, per la prima volta nella storia, ce ne sarebbe abbastanza per tutti, organizzandoci in un altro modo e cambiando stile di vita. Quindi non è una crisi economica. Questo è proprio, siamo sicuri, perché in realtà le risorse sono più di prima. Quindi, vabbè, potrebbe essere una crisi finanziaria. E quindi c'era di fronte al fatto che non sia economica, dicono, no, infatti è finanziaria questa crisi. E viene definita come, bene, siamo in crisi perché non c'è abbastanza denaro disponibile per il finanziamento dell'economia reale. E qui c'è un punto chiave, ci sono due temi interessanti, perché scarsità di denaro, come se il denaro fosse una realtà assoluta, come se il denaro fosse l'energia prodotta dalle centrali nucleari, o dalle centrali elettriche, o da quello che... come se il denaro fosse la benzina dell'economia. E manca questa benzina, e quindi in pratica in questo modo la Siria sorge a crisi economica. Dicendo, c'è scarsità di denaro, e quindi siamo in crisi. Di fatto, qui faccio un salto pindarico, ma accettatelo, questa crisi è data dal potere quasi illimitato dato alle istituzioni finanziarie internazionali, che in pratica si sono assorbite il potere economico attraverso meccanismi finanziari usati come strumento. L'altro giorno, cioè ieri Edoardo faceva notare come l'interconnessione della finanza mondiale sia non autonoma, nel senso che è molto intenzionata. è proprio un meccanismo intenzionato in cui si risucchia tutta l'energia del sistema per accentrarne il potere. Cioè, è proprio... si potrebbe sintetizzarla come una sorta di forma di tirannia. Io attraverso la scusa della finanza controllo tutto. Alcuni economisti parlano di riccolandia. Cioè, questo termine riccolandia, ci sono questo 1%, forse anche meno, che controlla veramente tutte le risorse del pianeta. e ci fanno sentire in colpa a noi perché viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Come se noi fossimo parte di questo processo. Non è così. Ecco, ci sono... questo meccanismo. È un potere veramente limitato. Sono come veramente le tirannie. Perché possono tutto. Possono dire agli stati che sbagliano, alzano lo spread, abbassano lo spread. Cioè, hanno come dei giochini definiti come reali con cui controllano tutto quanto. Però, attenzione che non voglio fare la teoria del complotto. Perché questo potere è concesso da una resa della politica. Alcuni esempi di questa resa. Vabbè, anche qui vado velocissimo. Bretton Woods, subito dopo la seconda guerra mondiale, vince la liquidità. Lì c'erano due c'erano due grandi opzioni. Keynes, che voleva, un grande economista di cui si sente parlare, la faccio facile, voleva in realtà applicare un sistema di clearing. Cioè, in cui non c'era bisogno di fare prestiti, era una sorta di baratto simbolico, in cui a un certo punto i debiti venivano annullati. Cosa che tra l'altro poi fu fatta per l'Unione Europea per un bel po' di tempo per farci riprendere dalla guerra. Però in realtà vince il dollaro come moneta internazionale più compatibile con gli interessi della finanza e imperialisti. 1971, perché il dollaro era convertibile in oro. 1971, fine della convertibilità del dollaro in oro. anni 80, interconnessione dei mercati finanziari. Prima le borse erano separate e ogni stato le controllava. A un certo punto cominciano a interconnettersi. Diciamo, chi si occupa di questi temi chiama Big Bang questo effetto, perché lì lascia l'universo della finanza mondiale. Nel 1999 viene abolito il Glass-Steagall Act in America e poi in tutto il mondo, che era la netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. Chi volesse approfondire questi temi, per chi volesse farlo, c'è tempo in altri momenti. Sono tutti atti di cessione di sovranità, atti politici. Cioè, sono gli stati che dicono alla finanza guarda, fai un po' quello che ti pare in pratica, perché tanto il mercato si autoregolerà e ci porterà la felicità collettiva. Allora, va bene, ma comunque in ogni caso ci sono i debiti pubblici. Quindi, anche se uno supera questa cosa, alcuni si fermano qui e dicono va bene, però comunque gli stati si sono indebitati. In cui lo Stato viene visto come, lo Stato e quindi i politici che lo gestiscono vengono visti come spendaccioni, corrotti, bunga-bungisti, perché però oltretutto ultimamente c'è proprio questa, che in pratica hanno speso al di sopra delle loro possibilità creando questi debiti pubblici che sono, che vengono proposti come la causa anche qui della scarsità di risorse. Beh, però attenzione perché si potrebbe dire che il debito pubblico nasce insieme allo Stato moderno, cioè lo Stato moderno nasce insieme al debito pubblico. L'istituzione della Banca d'Inghilterra nel 1694, quindi ci stiamo andando quasi all'epoca di Galileo, questa banca viene istituita per fornire moneta di potenza e finanziare le guerre. Cioè, il re d'Inghilterra doveva fare la guerra, però allo stesso tempo non voleva mandare in recessione la sua economia, aveva bisogno di soldi, sia per la guerra sia per la sua economia interna e allora si inventa una banca centrale privata in cui la banca presta i soldi direttamente al re per finanziare l'esercito in virtù del fatto che il re era sovrano e che quindi garantiva questo debito e allo stesso tempo può prestare gli stessi soldi con il meccanismo della leva finanziaria che diciamo inizia così, anche al sistema economico. Quindi in pratica comincia a esserci il denaro che si autogenera in base alla sovranità. Cioè in realtà tutto questo era garantito dalla sovranità del re. Attenzione che qui comincia a apparire lo Stato che in quel caso era il re. Poi c'è la banca centrale e appaiono questi mercati che sono quelli a cui vengono prestati i soldi e quindi appare un nuovo elemento nella reazione stato-denaro, il mercato finanziario. in ogni caso si tratta di debiti che nascono per non essere mai restituiti. Il debito pubblico nasce proprio in virtù del fatto che tanto non sarà restituito. Perché? Perché il re è sovrano. La sovranità vuol dire che è tutto mio. La garanzia è la sovranità. È un modello molto più avanzato di quello feudale per esempio perché nel nostro Stato feudale il re poteva prendersi tutto come gli pareva e gestirlo perché era tutto suo. In questo caso inizia con questo tipo di meccanismo perché ricordiamoci che l'Inghilterra infatti è stata una delle prime monarchie con una costituzione e il re non poteva fare tutto quello che gli pareva. Stava cominciando a cedere sovranità. Iniziava un processo di cessione della sovranità verso la nobiltà che poi porta alla frutocrazia e poi porta anche alle democrazie moderne. Cioè possiamo vedere quel processo che inizia in quel momento a causa di un bisogno di guerra però anche a causa di una democratizzazione in qualche modo. Era una democrazia non era una democrazia era una monarchia costituzionale in cui in qualche modo il re garantiva anche condivideva il potere con una parte della nobiltà. Si instaura rapidamente in questo processo anche grazie alla rivoluzione francese alla rivoluzione industriale comincia a cambiare tutto nascono gli stati moderni quindi non solo l'Inghilterra cominciano anche altre banche centrali e arriviamo con la rivoluzione industriale fondamentalmente all'avvento dell'economicismo cioè negli ultimi due secoli con l'avvento del capitalismo diciamo la rivoluzione industriale la rivoluzione mercantilista tanti fenomeni diciamo portano a far sì che lo Stato sia sempre meno centrale nella vita dei paesi e sia sempre più predominante il capitale. è proprio un paradigma il paradigma passa dal teocentrismo medievale all'economicismo cioè c'è il mezzo umanese c'è il mezzo altri però di fatto arriviamo proprio a un dominio totale dell'economia come sistema il mondo viene visto come un sistema economico la dialettica tra marxismo e capitalismo è su chi deve detenere il capitale l'aspetto dell'organizzazione statale è quasi un epifenomeno è un mito è un mito che pervade proprio una civiltà che tra l'altro si espande dappertutto cioè schiacciando altri modelli organizzativi trattati come primitivi quindi anche è uno di quegli aspetti in cui si toglie biodiversità anche al sistema dentro questo processo che sto semplificando in un modo vergognoso scusatemi abbiamo come delle ciclicità con diversi momenti di crisi per esempio alla fine dell'Ottocento ma anche anche nell'Ottocento però vediamo qui all'inizio del Novecento ci sono dei grandi momenti di crisi che nascono anche da grandi avanzamenti per esempio tutto questo in qualche modo produce il positivismo produce la crisi della scienza produce la meccanica quantistica in qualche modo c'è un processo all'interno del quale la civiltà occidentale si interconnette si evolve non è tanto male questo processo è un processo evolutivo in cui però ogni tanto c'è una crisi del sistema economico che comunque è centrale che come viene risolto con le guerre mondiali per esempio d'altronde la banca d'Inghilterra nasceva per fare delle guerre con una condizione di origine abbastanza importante quindi a un certo punto succedeva che il sistema entrava in crisi e tra il primo e il dopo c'è una guerra e in genere nel dopo c'è un avanzamento pensiamo appunto a tutti gli avanzamenti dell'inizio del novecento tutti gli avanzamenti scientifici cioè tra le guerre mondiali succedono tante cose molto interessanti però in mezzo ci sono le guerre mondiali con dei grossi avanzamenti e delle grosse retrocessioni dopo la seconda guerra mondiale appare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che mi pare un grande avanzamento appaiono i welfare states appaiono le socialdemocrazie avanzate e appaiono il progetto di un'unione europea basato su questi principi per esempio ovvero sia a un certo punto ci siamo trovati nel mondo delle democrazie avanzate e la maggior parte di noi è nata in quel mondo oggi però quel mondo sembra quasi una manzogna una promessa che ma manzogna e mi chiedo ma forse non è una promessa che non si è potuta mantenere a causa di dinamica di processo ovvero sia questo processo di spostamento della sovranità da parte del monarca assoluto verso in pratica il potere economico ha prodotto la democratizzazione ha prodotto i moti popolari ha prodotto la rascita delle borghesia se ne potete parlare a lungo ma non è questo il momento e quindi ha prodotto anche degli schemi di ideazione nuovi ha prodotto una rivoluzione tecnologica che ha permesso gli avanzamenti in qualche modo nella vita quotidiana e l'abbondanza di risorse di oggi però ha prodotto anche e qui siamo proprio questa è una cosa un po' ardita di fatto ha prodotto una resistenza i processi evolutivi incontrano sempre delle resistenze a mio modo di vedere non lo sto fondamentando è un'intuizione è poco più che un'intuizione la resistenza in questo caso è qualcuno che cerca di riaccentrare il potere in modo nuovo e più diciamo intelligente attraverso la creazione di questo sovrastato riccolandia ben descritto da quelli della teoria del complotto però la teoria del complotto fa sembrare che sia tutto sotto controllo di questi burattinai io invece li regherei a una semplice resistenza della storia pensando che la storia vada veramente verso il superamento del dolore della sofferenza per cui a un certo punto non c'è più il monarca c'è una tendenza storica alla diffusione della sovranità e c'è qualcuno che fa di tutto per assorbirla sfruttando alcune caratteristiche iniziali dell'inizio del processo che glielo permettono con le guerre in mezzo che permettono di normalizzare il processo quando c'è qualcosa che non va però sembrerebbe che oggi siamo arrivati a un punto a una nuova crisi diciamo di questo processo che in passato si è normalizzato attraverso le guerre e che le guerre non funzionano più non funzionano più perché gli manderebbe fuori controllo cioè ormai è tutto così globalizzato e il sistema bellico è così potente che una guerra di questa portata metterebbe in discussione veramente anche quello schema di potere e quindi stanno cercando proprio in ogni modo di non farla succedere la cosa almeno a livello materiale allora si sono inventati delle forme di guerra un po' più evoluta perché diciamolo questa crisi la crisi finanziaria potrebbe essere tranquillamente vista come una sorta di attacco non bellico ma economicista finanziario alle democrazie io ti attacco con il rating con lo spread e ti conquisto perché faccio in modo tale che la tua economia si deprime costa tutto poco ti compro e ti ho conquistato l'obiettivo è raggiunto però sono veramente come dei dettagli in questo processo quindi molto rapidamente sembrerebbe che il tema non sia tanto l'economia il problema non sia l'economia ma sia la sovranità per vedere questo occorre proprio come togliersi un velo dagli occhi perché noi siamo nati in un mondo economicista è come dire un uomo del medioevo beh ma prendi in discussione metti probabilmente in discussione il fatto che Dio esista o no per cui quello che succede spesso è che se c'è un economista gli si chiede di risolvere la situazione in ogni caso è colpa sua e deve risolvere lui la situazione perché visto che tutto è economia sta agli economisti risolvere la situazione mentre invece sembrerebbe che siamo arrivati non a una crisi economica ma a una crisi dell'economicismo inteso come visione proprio mito dell'economia come sistema di gestione del mondo ecco visto così possiamo veramente provare a vedere tutto questo processo come una grande occasione come un momento di processo abbastanza critico che potrebbe anche andare male potrebbe andare molto male perché il totalitarismo non è che lo schema perché la crisi è anche un momento in cui uno non sa dove va a finire però in cui veramente ci potrebbe essere una grande trasformazione bisogna uscire dal paradigma e come si fa a uscire da un paradigma attraverso un modo di vedere la realtà un nuovo modo integrale di vedere la realtà per cui è interessante che solgano anche nuovi modelli economici ma se non si cambia il modo di vedere la realtà questi modelli economici non potranno esprimersi non c'è niente da fare occorre immaginare qualcosa di completamente nuovo da un punto di vista della sovranità in questo caso ora il nuovo ingrediente che potrebbe potrebbe aiutare in questo si chiama democrazia reale ultimamente si parla molto di democrazia diretta anche in modo spontaneo è interessante questo il problema è che viene un po' banalizzato a volte si immagina come se fossimo tutti nello stesso parlamento che dobbiamo decidere sempre su tutto diventa veramente un po' ingestibile però è interessante che ci si ponga il tema di mantenere quelle promesse che non sono state mantenute perché di fatto nelle democrazie rappresentative il rappresentante era eletto dal popolo ma doveva rispondere al potere economico dappertutto non è un problema italiano in tutte le democrazie rappresentative si è sempre dato questo come facciamo a fare una democrazia reale noi abbiamo ideato una sorta di proposta che passa innanzitutto la chiamiamo stato coordinatore che è altamente decentrato super partecipato deve controllare direttamente i servizi essenziali della comunità quindi tipo l'educazione che è la priorità numero uno sottoscrivendo tutto quello che ha detto Olivier perché in tutto questo l'educazione diventa la chiave però se la propongo come sistema operativo proposta dall'alto cioè se un gruppo di individui studiosi anche illuminati fantastici si mettono a pensare come si devono organizzare gli altri non può funzionare perché restiamo nel paradigma della monarchia magari un po' più distribuita cioè comunque c'è qualcuno che è sovrano e impone qualcosa agli altri in buona fede come gli pare sembrerebbe che bisogna cambiare punto di vista e provare a costruire questo nuovo paradigma a partire dall'esperienza diretta di ogni essere umano cioè che per quanto buono posso essere proporlo dall'alto non possa funzionare e questo sì che è un cambio di paradigma perché richiede un po' di cose innanzitutto lo sforzo a quel punto non è più mio di potenziale politico anche umanista anche non violento con le mie intenzioni io dovrò promuovere un cambio di punto di vista nella gente perché se tutti dobbiamo essere sovrani essere sovrano avete visto qualche film su Elisabetta prima il sovrano comunque la pagava un pochino a livello personale il fatto di essere sovrano a livello soggettivo noi dobbiamo cominciare a metterci in quell'ottica ma io se fossi il sovrano cosa dovrei studiare di cosa come dovrei pensare perché se io delego il futuro agli altri non penso di certe cose non mi ci metto lì a occuparmene se io penso che invece devo essere il sovrano comincio a studiare certe cose comincio a occuparmene comincio a preoccuparmi a relazionarmi con altri rispetto a queste cose e questo va a costruire un cambio proprio di modello umano cioè perché diventa un'occupazione quella quindi per esempio c'è tanto problema di perché oltretutto viviamo in un mondo in cui per vivere devi lavorare ma la tecnologia ha prodotto il fatto che c'è meno bisogno di lavoro e uno deve spesso si inventa cose inutili di poter campare allora una grande o anche a volte dannose devo campare faccio cose dannose sarebbe interessante che parte del tempo io tutto il popolo la spendesse nello studiare come organizzarsi come attività sommamente utile come organizzare la comunità con forme diverse anche lì questo modello di stato coordinatore può prevedere mille modelli organizzativi perché è decentrato creare un ecosistema però bisogna partire da alcuni capisaldi perché se se in una cosa del genere ci metto elementi violenti esplode tutto andiamo proprio a forme anarchiche dell'ottocento che poi erano insostenibili anche se comunque fu un'intuizione interessante quella per finire introdurando anche alcuni temi di domani e soprattutto anche alcuni temi tutto il tema del tempo da dove da dove iniziare perché allora dimmi da dove devo iniziare dove possiamo iniziare per fare tutto questo se no si immagina qualcosa di pratico anche secondo me uno dei problemi più grandi del tempo attuale è anche una crisi della temporalità umana infatti mi è piaciuto molto che ci sia parlato tanto del tempo in questi giorni una delle cose che ci caratterizza come esseri umani è il fatto di avere un ampliamento della capacità temporale rispetto a più o meno tutti gli altri esseri che conosciamo quindi abbiamo una storia siamo un essere storico quindi con il concetto di passato e siamo in grado di immaginarci un futuro intenzionandolo non solo rispetto al domani o cosa voglio mangiare oggi ma anche rispetto all'avvenire che voglio per i miei nipoti o per cioè abbiamo avremmo potremmo avere una grande capacità di mobilità temporale con un passato un presente e un futuro il problema è che se oggi se io penso al futuro vedo una cortina grigia come se perché ce l'hanno tolto cioè queste resistenze nell'evoluzione storica hanno come compresso sia il passato che il futuro relegandoci proprio a un presente quindi la proposta pratica che un esponente del partito umanista propone è quella di sforzarsi di allenare soprattutto il tempo futuro immaginandoci veramente come vogliamo vivere e in che condizioni grazie ho scurato il pochino allora domande ci sono domande io mi lancio come? vado sì ti lanci allora rispetto alla realizzazione di un sistema realmente democratico decentrato e partecipato sorgono normalmente parlandone due obiezioni frequentissime una è la gente non è assolutamente in grado di decidere niente chissà che cazzate andranno a votare se possono decidere su tutto la seconda è questo costerà tantissimo cioè saremo una volta al mese a elezioni costano non so quanti miliardi ogni volta quindi è una rovina per cioè è insostenibile tu cosa potresti rispondere ti ringrazio della domanda allora rispetto al primo argomento la risposta è probabilmente sì all'inizio ma d'altronde è anche vero che non è che noi possiamo imporre la democrazia diretta da un momento all'altro e che sicuramente nel momento in cui l'umanità diciamo i gruppi umani pretenderanno la democrazia diretta e riusciranno a praticarla questo vorrà dire intrinsecamente che avranno raggiunto un altro livello di diciamo consapevolezza come educazione e è per questo che la priorità numero uno in ogni caso è l'educazione intesa non come riempimento nozionistico ma come trattare ogni bambino come un potenziale sovrano e dargli tutti gli strumenti di decisione di secondo argomento vabbè rispetto al fatto delle lezioni bastano ormai ci sono degli strumenti tecnologici che permettono di farlo usare le stesse tecnologie che usano le banche con un paio di firme digitali un po' sicure ecco che e ovviamente poi si tratterà anche di educarsi alla cosa sostenibile io cioè penso che sicuramente sbagliando si impara mettiamola così però nel momento in cui il popolo disporrà delle risorse e si renderà conto che sono quelle che non c'è qualcuno che se le può inventare per me comincerà a essere anche molto più responsabile nell'uso di quelle risorse cioè che la fine dell'intermediazione continua probabilmente veramente farà farà aumentare la saggezza io penso che sia possibile veramente forse sono pazzo magari non domani non domani però che in questo momento stanno sorgendo per esempio quello di cui parlava Riccardo Riccardo prima è come che sta sorgendo spontaneamente un modello economico che sarebbe perfettamente compatibile con questo modello politico anzi si potrebbe lo retroalimentare e funzionare molto bene quindi Aspetta Allora la ricostruzione che ci hai dato mi sembra fatta proprio da un punto di vista troppo occidentale nel senso che io non penso che dappertutto abbiamo democrazie avanzate come le chiamate ma proprio facendo riferimento al fatto che ieri si è parlato molto di tempo noi abbiamo a che fare con diverse temporalità è tutto sempre presente nel mondo cioè non c'è una evoluzione un'unica evoluzione abbiamo bambini abbiamo adulti e abbiamo anche persone anziane così come noi abbiamo democrazie abbiamo dittature e abbiamo anche monarchie assolute cioè se io mi pongo dal punto di vista di quello che accade in Africa il problema non è adesso quello della democrazia avanzata e così anche in altre parti del mondo a me sembra che insomma sia un po' più complessa la ricostruzione che cosa è accaduto dopo la seconda guerra mondiale non necessariamente solo la dichiarazione dei diritti dell'uomo delle guerre di liberazione in Africa che però poi hanno portato a delle situazioni attuali che sono di estrema sofferenza cioè loro davvero arrivano perché non vedono un futuro per questo che fuggono un'altra cosa brevemente proviamo a immaginarci di essere noi sovrani e a pensare il nostro futuro allora come proprio adesso mi è stato suggerito come ha fatto il sovrano a sto tempo anche prima del sovrano inglese noi sappiamo nel rinascimento sono fallite quelle prime banche ad esempio Fugger che hanno prestato soldi all'imperatore perché l'imperatore non ha ripagato il debito quindi dovrei perché era sovrano esatto poteva farlo immaginare il nostro futuro pensando innanzitutto di non ripagare il debito intanto perché non è proprio ripagabile non sento che l'ammontare totale del debito io sono d'accordo entreremo nel tema dell'ontologia del denaro che richiederebbe un pomeriggio mi piacerebbe molto parlarne rispetto alla prima cosa è vero ho semplificato molto in ogni caso se andiamo a vedere numericamente considerando che l'India è una delle democrazie più avanzate del pianeta la Cina si sta democratizzando su un modello abbastanza proprio occidentale a livello numerico in Sud America comunque dittature sì più o meno però c'è anche tutto un processo in corso di un certo tipo la maggioranza della popolazione mi sembra all'interno di questo processo e anche in Africa qualche democrazia pur fallimentare c'è non è che sono tutte dittature insomma si potrebbe discutere non voglio brevissimamente volevo chiederti è molto interessante questo concetto di stato coordinatore eccetera eccetera però tra i sistemi decisionali volevo sapere cosa ne pensi tu personalmente e come partito di sistemi che esistono anche come tradizione non soltanto come rivoluzione come per esempio ci sono in Svizzera sistemi referendari oppure la democrazia partecipativa che non è esattamente la democrazia diretta e cosa ne pensi del consenso razionale che non è esattamente una tecnocrazia dall'alto allora io penso che qualunque tipo di modello organizzativo che vada in questa direzione vada bene vorrei capire come mai non è stata messa nel tuo schema perché se devo farti un appunto rimaniamo senza soluzioni soltanto con delle ipotesi perché non voglio proporle le ipotesi cioè deve essere una cosa che nasce dal basso io le avrei le ipotesi ma sei un partito però ma siamo un partito un po' strano noi allora è meglio non esserlo cioè ok poi attenzione un attimo parlavo a livello personale poi in realtà stiamo proponendo abbiamo appena proposto un workshop sulla democrazia diretta a Milano stiamo lanciando una campagna sul tema della democrazia cioè non è che non ce ne stiamo occupando ce ne stiamo occupando è come io in questo discorso che era un po' dei massimi sistemi fatto per un simposio mi ero sforzato proprio di astrarmi un pochino dal tema del partito in quanto proposta diretta di oggi è vero io ho anche scritto c'è un appello su internet appellodemocraziadiretta.org e ho visto il governo Monti totale impotenza non ci puoi fare niente perché tanto ti commissariano e mi ha avuto il momento di scrivere un appello e dire cominciamo a pensare magari a prenderci in mano il potere con strumenti di democrazia diretta non so come l'appello era occupiamocene perché purtroppo non c'è un modello sperimentato che puoi dire va bene si 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 ma l'avevo detto il partito umanista è promosso in Italia la legge sulla responsabilità politica raccogliendo anche le firme che anche quello è un passo verso la democrazia è ancora l'imparlamento che aspetta di essere votata cioè abbiamo fatto tante attività concrete in questa direzione però non è il simp... cioè infatti non è il tema del simposio la mia domanda è terminata perché hai detto che non vuoi fare ipotesi quindi non ha più senso la domanda possiamo magari poi farle però volevo dire una cosa a parte sono d'accordo con il signore che diceva che abbiamo sempre ahimè un approccio parliamo di umanità o pretendiamo di parlare di umanità abbiamo sempre l'approccio occidentale come se il resto del pianeta non esiste e poi comunque dei modelli esistono al di là del modello svizzero esiste il caso Islanda guarda c'è da studiare c'è da studiare tanto il tema è che se tu prendi un modello e lo prendi già come paradigma senza provarlo no no ce ne sono tantissimi ma ce ne sono ci sono dei software ci sono dei casi di successo però l'Islanda non è c'è il partito dei pirati che comunque ha degli aspetti ci sono tantissimi c'è come un mondo che sta emergendo qui stavamo parlando abbiamo cercato di fare non sono entrato nei dettagli di niente perché alcuni dei passaggi adesso a parte questo veramente andrebbero fondamenti infatti mi aspettavo che qualcuno dicesse ma che cavolo stai dicendo perché è proprio come questa era come una specie di provocazione proviamo a vederla in questo modo a vederla questa come una possibilità e poi parliamone ma ci sarebbe tanto 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 da discutere da elaborare l'ultima cosa che non è una domanda ma è una proposta a questo punto probabilmente la gente non sa quindi forse ancora prima di cominciare a sedersi bisogna informare si parla è parlato giustamente di cessione di sovranità la gente non sa oggi in Italia che ha perso la sovranità monetaria quella popolare e quella alimentare questo ancora non l'ha capito l'Italia ovunque ci sia da fare un seminario su questi temi su cui sono anche abbastanza ferrato invitatemi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti